19 giugno 1976, la sonda Viking 1, lanciata da Cape Canaveral il 20 agosto 1975, entra nell'orbita di Marte. Il Viking inizierà presto il suo lavoro di ricerca di microorganismi marziani e fotograferà a colori degli incredibili panorami del pianeta rosso. Grazie a questa missione, gli scienziati scoprono che il cielo di Marte è di colore roseo e non blu scuro come si pensava.